con questo video ci proponiamo di disegnare in prospettiva centrale un solido che abbia più o meno la forma di una scala quindi diciamo che impianta può presentarsi in questo modo in visione frontale prospettica potremmo avere questa immagine più o meno le misure sono queste profondità 6 cm ogni pedata se vogliamo assimilare una scala questo solido è 2 cm ogni alzata è un centimetro e mezzo quindi abbiamo un totale un'altezza totale di 6 cm in visione assonometrica più o meno il solido potrebbe presentarsi in questo modo ok approssimativamente ma noi abbiamo detto che vogliamo disegnare in prospettiva centrale prospettiva centrale vuol dire che guardando il piano il geometrale dall'alto il cerchio delle distanze e punto di vista il nostro solido sarà disposto più o meno in questo modo con i lati o almeno alcuni dei lati paralleli alla linea di terra che è questa se così non fosse se il solido fosse disposto in posizione obliqua e in questo caso avremo una prospettiva non più centrale ma accidentale quindi lati del solido paralleli al quadro ovvero alla linea di terra prospettiva centrale lati inclinati prospettiva occidentale allora noi abbiamo già disegnato qui il geometrale quindi il piano orizzontale sul quale poggia il solido ricordiamo il sistema complessivo dei vari elementi questo il geometrale il piano verticale e il quadro il punto di vista dell'osservatore quindi l'occhio dell'osservatore si trova più o meno qui l'oggetto è disposto sul geometrale più o meno in questo modo e quindi unendo l'occhio il punto di vista con i vari punti che compongono l'oggetto l'intersezione di queste raggi proiettanti con il quadro genererà la prospettiva dell'elemento che stiamo a disegnare e allora vediamo come impostare questa prospettiva innanzitutto proiettiamo le linee che rappresentano i gradini sulla linea di terra ecco queste linee di proiezione che abbiamo rappresentato in verde ma che voi rappresenterete con una matita leggera quindi i colori verde e rosso stanno a indicare una matita dura che dà luogo a una linea molto sottile e leggera le linee nere stanno a indicare una matita morbida quella che ci serve per calcare i contorni delle figure allora queste linee in verde chiamiamole A, B, C, D ed E intersecano la linea di terra nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 metteremo in prospettiva queste linee ma non basta per determinare la profondità dell'oggetto in prospettiva disegniamo anche delle linee a 45 gradi che partano da questi due punti o anche da questi due punti qui cominciamo ad esempio da questi due punti linee inclinate a 45 gradi quindi muoviamo così le squadre e disegniamo questa linea e disegniamo questa linea chiamiamo i punti di intersezione 6 e 7 intersezione con la linea di terra quindi noi disegneremo in prospettiva la pianta della scala cioè questa immagine qui utilizzando o meglio mettendo in prospettiva le linee A, B, C, D che intersecano la linea di terra nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 individueremo la profondità in prospettiva di questa pianta disegnando la prospettiva di queste linee che possiamo chiamare F e G inclinate a 45 gradi che intersecano la linea di terra nei punti 6 e 7 ricordiamo alcuni principi fondamentali tutte le linee perpendicolari al quadro in prospettiva concorrono vanno in fuga nel punto principale tutte le linee inclinate a 45 gradi rispetto al quadro e paralleli al geometrale avranno il punto di fuga nella distanza sinistra se vanno verso sinistra nella distanza destra se vanno verso destra e dunque non ci resta che impostare allora il disegno della prospettiva e allora cominciamo a disegnare il quadro che è compreso fra la linea di terra e la linea di orizzonte e assumiamo come distanza tra linea di terra e linea di orizzonte una distanza pari per esempio a 8 cm 8 cm è l'altezza la distanza tra linea di orizzonte e linea di terra in questo caso dovremo usare una riga un po' più lunga disegniamo ora l'asse ottico ribaltato sul quadro l'asse ottico è questo immaginiamo l'asse ottico e l'intero cerchio delle distanze di ribaltarlo mettiamo che sia in questo piano ribaltiamo il piano sul piano verticale cioè sul quadro ovviamente sarà posizionato al di sopra della linea di orizzonte e il cerchio delle distanze e allora vediamo questa distanza quant'è questa distanza del punto di vista del quadro è di 16 cm in realtà noi dovremo prendere una distanza pari più o meno una volta e mezza alla diagonale dell'oggetto che è poco più di 13 quindi dovremo avere una distanza ottimale di più o meno una ventina di centimetri perché questa regola? questa regola serve ad evitare fenomeni di aberrazione cioè di deformazione dell'immagine il nostro foglio tuttavia non è molto grande quindi cerchiamo un po' di adattarci e prendiamo una distanza non di 20 cm ma abbiamo detto di 16 cm dal quadro distanza del punto di vista dal quadro e riportiamo questa distanza e disegniamo il cerchio delle distanze ecco abbiamo dunque punto principale punto di terra linea di terra linea di orizzonte punto di vista ribaltato sul quadro distanza sinistra e distanza destra ecco questi sono gli elementi che ci consentono gli elementi di base che ci consentono di disegnare la prospettiva in sostanza questi elementi che noi vediamo rappresentano il quadro cioè questo oggetto qui questo piano è il cerchio delle distanze che è ribaltato sul quadro vediamo meglio piano geometrale quadro asse ottico punto di vista linea di orizzonte questo è il cerchio delle distanze con distanza sinistra e distanza destra questo cerchio lo ribaltiamo in verticale sul piano in cui è contenuto il quadro ed è questo cerchio qui allora come impostare la prospettiva? cominciamo a disegnare la pianta di questa scala e disegniamo innanzitutto le linee a b c d è in prospettiva come facciamo? allora sono linee perpendicolari al quadro dunque vanno in fuga nel punto principale vediamo un po' quali sono le distanze di questi punti dal punto principale che questo o meglio punto di terra coincidende col punto principale la distanza del punto 1 è di 4,9 questa distanza la riportiamo pari pari qui questo è il punto 1 distanza del punto 2 dal punto di terra coincidente col punto principale circa 3 cm è un po' meno di 3 cm 2,95 per l'esattezza ora in realtà tutti questi punti 2,3,4 sono distanti ciascuno dal punto precedente di una misura pari a 2 cm quindi possiamo riportare in realtà direttamente dal punto 1 la distanza di 2 cm quindi punto 3 e punto 4 il punto 5 si trova a una distanza di 6 cm dal punto 4 e quindi si troverà qui questo è il punto 5 dunque abbiamo detto che le rette ABCD eccetera che partono da questi punti vanno in fuga nel punto principale e dunque uniamo i punti che abbiamo qui rappresentato con il punto principale e allora dobbiamo rappresentare in prospettiva le rette F e G inclinate a 45 gradi la distanza del punto 6 dal punto di terra è 9,2 circa 9,2 1,15 volendo essere precisi 9,15 quindi è qui la precisione importante siamo qui questo è il punto 6 questa distanza è pari a questa questo è il punto 7 ora queste linee abbiamo detto sono inclinate di 45 gradi vanno verso sinistra rispetto a me all'osservatore che è qui quindi le loro prospettive vanno in fuga nel punto distanza sinistra di S attenzione le due linee F e G intessecano la prospettiva della linea E quella che parte da 5 in questi due punti che possiamo chiamare ad esempio A e B essendo questi i punti C e D e allora andiamo a individuare i punti B A è intersezione di E con F la retta E è questa la retta F è questa quindi questo è il punto A il punto B è intersezione di G con la retta E partente da 5 quindi retta E retta G il punto B è questo queste due rette che delimitano la figura della scala sono parallele al quadro in prospettiva le linee parallele al quadro e al geometrale restano parallele al quadro e dunque da A e B disegniamo due linee parallele a quadro vuol dire in sostanza parallele alla linea di terra dunque A, B, C, D la pianta A, B, C, D la pianta della scala qui in rosso sono indicate le proiezioni di questi gradoni di queste alzate sulla pianta sul piano orizzontale e allora vediamo come disegnare questi gradoni tenendo conto che l'altezza di ciascuno è di un centimetro e mezzo e allora dal punto 1 stacchiamo il segmento verticale dell'altezza di un centimetro e mezzo l'estremo superiore di questo segmento lo andiamo a unire col punto principale e questo ci consente di individuare allora l'altezza in prospettiva di questo spigolo il primo gradino e anche quest'altro che però è dietro e che allora disegniamo in tratteggio secondo gradino dal punto 2 prendiamo l'altezza il secondo gradino che sarà 1,5 più 1,5 3 centimetri quindi riportiamo qui l'altezza di 3 centimetri siamo qui uniamo col punto principale e quindi individuiamo l'altezza del secondo gradino consideriamo che da questo punto la pedata in prospettiva la vedremo come una linea orizzontale questa è l'altezza del secondo gradino l'altezza del terzo gradino sarà 1,5 più 1,5 più 1,5 4,5 ci troviamo qui questa è la terza alzata dal punto 4 dobbiamo riportare un segmento di altezza pari a 6 centimetri siamo qui uniamo queste estremità del segmento col punto principale questa è la quarta alzata da cui parte questa linea che rappresenta il piede ottolo che resta orizzontale in prospettiva e che si ferma in corrispondenza dallo sfigo partente da per visualizzare meglio il disegno fino a fatto disegniamo in nero i contorni che ci interessano che delimitano la figura quindi questa è la forma della scala del profilo della scala in prospettiva dobbiamo disegnarne la profondità allora guardiamo la prima alzata la base è questa la prima alzata arriviamo in questo punto lo abbiamo già da questo punto portiamo sulla verticale e incontriamo lo spigolo del primo gradino in questo punto qui secondo gradino lo spigolo del secondo gradino è questo e fin dove arriva da questo punto portiamo sulla verticale arriviamo qui terza alzata questo è lo spigolo della terza alzata per vedere dove arriva in profondità portiamo su questo punto intersezione arriviamo qui per quanto riguarda l'ultima alzata lo spigolo dell'ultimo gradino è questo impianta portiamo su dunque questo punto e qui arriva l'ultimo scalino l'ultima alzata l'ultima alzata l'ultima alzata proviamo come al solito a dare un colore per evidenziare i volumi l'ultima alzata l'ultima alzata bene ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro l'ultima alzata